Ex magazzini generali via Santa Teresa 12, è questo l'indirizzo del Children's Museum Verona, il nuovo museo tutto a misura di bambino dove la scienza in due piani a mille metri quadrati diventa coinvolgente e magica. Da mesi il popolo dei piccoli aspettava l'apertura di questi spazi che si presentano come una novità davvero impertibile per bambini, famiglie e scuole. Il progetto, il primo di questo tipo in tutto il nord-est, è di Pleia, di realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza e vede tra i vari partner anche il comune di Verona e la fondazione Cari Verona. Abbiamo creato questo museo per incuriosire i bambini, per far sì che loro possano esplorare il mondo attraverso delle esperienze di tempo pratico. La parola d'ordine qua è vietata a non toccare, ma le zone da esplorare sono tante. C'è un cantiere dove indosseranno caschetto e casacche e potranno costruire una casa, oppure ingegnarsi per costruire una macchinina, oppure costruire una città tutta blu. Ci sono più di 30 metri di vasche dove poter esplorare le proprietà dell'acqua. C'è una stanza tutta buia per esplorare la luce, i colori. Il viaggio all'interno del museo si articola attraverso diversi tipi di esperienze. Ogni luogo racconta un'atmosfera speciale e regala un'emozione diversa. Un museo per i bambini è a dimensione bambino, dove il bambino viene lasciato libero di esplorare. Non c'è un percorso per costruire. Il bambino potrebbe anche trascorrere tutto il tempo solamente su una macchina. E qua è la fondamentale, è la filosofia base che ci ha guidato nella realizzazione di questo museo. Seguendo ovviamente i grandi pedagogisti come Maria Montessori, oppure anche Bruno Munari con le attività artistiche. Quindi noi ci siamo ispirati a loro, ci siamo ispirati ai cittadini del museo americano, per costruire qualcosa di wow a Verona.